guardate ragazzi una ragazza è rimasta a piedi sta fermata e due ci pensiamo noi non è stato capace di cagnare un'uomo e gli ha chiamato meccanico guarda questo incantato guarda quanto è incantato qua ma che cazzo gli volete farlo famo la piazza santa donato guarda che incantato guarda che incantato guarda quelle sono che cazzo te ne fia lo cazzo cazzo freddo che sta cazzo affangola a te a te su cellulare va affangola alle temi alle temi mio fratello pizzo beh tommy ma se le combate rinvigiamo il tosto io lo so lavato non lo so vedete lo so lavato io che cazzo ogni anno a cattavente e quattro scatola del clima ma allora la caccia di soli per piacere e che cazzo che è e la piazza è arrivata a parlare va a parlare alla piazza eh ci puoi pure te la piazza la piazza ancora va faccio un'altra tezza la mamma le piazza scoppa ma vaffanculo la mamma la rosetta ci sta che hai? scoppa ma non è già aperto ci sta che hai il giorno ci sta mangiare ci sta Mi piace molto bene. Brav. Mi piace molto. Coppa! Ancela Madonna. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti